Ci siamo. Ci siamo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova live. Ciao a Bertel Moula e ciao al nostro ospite di questa sera, il campione italiano Filippo Zana. Ciao Filippo. Ciao a tutti. Come stai? Tutto bene? Sì, bene, grazie. Allora, ti chiedo intanto qual è il tuo programma di gare da qui a fine stagione, se sai già le corse che andrai a fare da qui a ottobre. Diciamo che adesso farò Repubblica Ceca e Sans Cattur, poi Danimarca, poi dovrei fare Plouet, Inghilterra, Tour of Britain e poi le gare in Italia. Senti, la tua vittoria, la tua maglia tricolore ha un po' cambiato, diciamo, la tua stagione, non dico magari anche in parte la tua vita, però, interviste, partecipazioni varie, insomma, ti abbiamo visto un po' in giro, molto impegnato anche sotto questo aspetto. È una cosa che immagino ti gratifica, ti fa piacere. Sì, diciamo che dopo la prima parte di stagione qui in Naro contento, sono riuscito a vincere l'Adriatica Ionica e poi il campionato italiano che proprio non me lo aspettavo. Poi è stata tutta una cosa nuova per me, diciamo, sì, è stato bello e anche un po' impegnativo, però, dai, è bello così anche perché è una gran bella vittoria, non me l'aspettavo e dai, e adesso ci abbiamo la maglia e speriamo di fare ancora bene. L'obiettivo di questa sera è non metterti pressione. Tu devi sapere che quando si parla di ciclismo italiano, che non sta vivendo certamente un bel momento, siamo riduci da un tour certamente non positivo, per non dire altro, però il tuo nome riecheggia spesso, no? Si parla spesso di Filippo Zana, delle tue qualità e di cosa potresti fare in futuro, perché sei ancora giovanissimo, 23 anni. Che tipo di corridore sei? Come ti definiresti? Diciamo che nelle salite mi difendo. definirmi, non saprei ancora bene dove potrei arrivare, diciamo, e so che posso ancora migliorare e spero di riuscire a migliorare sempre di più e poi in futuro vedremo, dai. Di una curiosità, poi lascio spazio alle domande dei ragazzi, in quel giorno che hai vinto il campionato italiano, Labardiani aveva portato, se non ho letto male, 16 corridori. È stato un vantaggio da un certo punto di vista essere così tanti per la corsa, per lo svolgimento della corsa, oppure alla fine non è cambiato molto? No, beh, sicuramente essere in tanti in squadra ti aiuta. Poi sicuramente sai le gambe e riesci a restare con i primi, se non ce le hai ti stacchi. Però penso che avevamo una buona squadra e siamo riusciti comunque, anche essendo in tanti, a fare veramente un'ottima gara e un'ottima tattica di gara, insomma. Quindi poi è andato tutto per il meglio, però comunque anche se non arrivava la vittoria avevamo comunque fatto un'ottima gara. e siamo stati sempre protagonisti dall'inizio alla fine, quindi è stato veramente un gran giorno per noi. Ragazzi, vai con le domande. Mullah, Berta. Vai, vado via, vado via. Vai, Mullah, subito, eh. No, subito cosa? Niente. No, dicevo, vabbè, a prescindere da quello che farai e dove migliorerai, insomma, il futuro non si conosce, no? Ma il tuo sogno, diciamo, tra virgolette, sarebbe quello di lottare per le corse a tappe oppure per le corse di un giorno, se tu potessi scegliere. Io, il mio sogno sarebbe corse a tappe. So che è veramente difficile e sarà da lavorare molto, però spero un giorno di riuscire ad arrivare a giocarmi qualche grande corse a tappe. Speriamo. Speriamo. Cominciare da quelle da una settimana, no? Qualche corso di… Ma sì, sì, sicuramente iniziare magari da come Tour of Alps, che è una gara un po' più corta, o Tireno Adriatico e poi magari riuscire ad essere protagonista in quelle più grandi. Speriamo di riuscire a portare ancora l'Italia nelle prime posizioni. Berta? Io gli volevo chiedere, come ci ha chiesto anche lo Svizzolo, una impressione invece sul Tour dell'Avenir dell'anno scorso, che è stato diciamo una delle prime gare in cui si è cominciato a notare il tuo nome a livelli alti, perché poi si è arrivato dietro a Johannes, e Carlos Rodriguez, che sono già due nomi che quest'anno abbiamo conosciuto bene anche nel World Tour. Sì, dai. Come è stato? Che gara è? L'anno scorso arrivavo dalla corsa TAPI, che andrò a fare tra poco, Rosazka, che avevo vinto e avevo battuto Johannes e avevo visto che era andato molto in crescita, cioè della prima all'ultima tappa era cresciuto molto e poi ci siamo ritrovati il Tour dell'Avenir a battagliare, insomma, lui aveva una gran gamba, infatti, insomma, ha vinto, non dico facilmente, ma ha vinto bene e, ma diciamo che il Tour dell'Avenir sì, penso sia stata una delle più belle gare che ho fatto tra gli Under 23 e, poi stavo bene, quindi sono riuscito anche a difendermi e dai, speriamo di continuare così. Senti, cos'è successo al Giro d'Italia? Perché ci si aspettava magari qualcosa in più da parte tua e poi anche della Bardiani, invece, sì, qualche piazzamento, però alla fine è mancato forse l'acuto, no? Sì, diciamo che anch'io speravo di fare qualcosa in più e, diciamo, non so, forse ho sbagliato qualcosa come programmare la stagione e, programmare la stagione, l'avvicinamento, ho sbagliato, ho sbagliato forse qualche, non so, come mi sono preparato e, diciamo, sono arrivato al top della condizione, quindi, in un giro così, se non si arriva veramente al top è difficile anche, insomma, farsi vedere, quindi, ho cercato di dare più di quanto ne avessi e, è andata così e, niente, non posso farci niente, dagli errori si impara, quindi speriamo di, di essere cresciuti anche da questo e speriamo di riuscire a migliorare sempre di più. Tra l'altro, un po' di fondo te lo ha dato il giro, perché la gara successiva è stata proprio l'Adriatica, Ionica, che hai vinto, quindi, diciamo che... già finirlo da uno sprint in più, almeno così dicono. Sì, sì, diciamo che il giro ti dà sempre qualcosa in più. La gamba che avevo sono andato dell'Adriatica, Ionica e mi sentivo veramente bene. Quindi, niente, devo pensare bene agli errori fatti e imparare, insomma, da questo, perché anche così si cresce, insomma. Questa gliela leggiamo, perché noi, lo saprai, abbiamo Giovanni Visconti che ha collaborato con noi durante il Tour de France, con le sue analisi, è stato in live un paio di volte. Che consigli ti ha dato in squadra, Giovanni all'inizio stagione e credo anche poi magari nel proseguo se vi siete sentiti, visto che lui commentava anche il campionato italiano in tv, quindi era molto felice della tua vittoria. Diciamo che con Visconti era, non so, qualcosa in più in squadra, perché ci dava consigli a tutti. Diciamo che mi diceva sempre di stare tranquillo e che insomma di tempo ne avevo, ero giovane e sei giovane e comunque avevo già fatto vedere che sì, potevo fare qualcosa di buono. Sicuramente non sono magari un fuoriclasse, però dai, un buon corridore magari si può diventare allenandosi bene e quindi sì, mi ha dato sempre sicurezza, mi ha dato sempre energia, forza per continuare a allenarmi sempre più duramente per riuscire a migliorare sempre di più e quindi lo ringrazio, lo ringrazierò sempre. Poi è stato bellissimo perché la prima gara che ha commentato è stato il campionato italiano e le fatalità l'ho vinto, quindi mi sederebbe fargliene commentare qualcun altro allora. Sì, tutte le gare che così magari porta fortuna. Ci racconti un po' il finale del campionato italiano perché non eri diciamo il favorito tra quelli che poi sono arrivati anche se lo spunto veloce ce lo avevi quindi come sono andate le cose? Diciamo che il campionato italiano sono partito da casa dicendo anche che anche la mia ragazza ha detto sì, vado giù e torno vado per fare per far numero per aiutare la squadra insomma e invece della serie è sempre poca pressione giustamente la lasciamo da parte forse è stato anche quello il bello che sono andato lì proprio tranquillo così poi inizio gara il caldo mi ha fatto un po' soffrire anche i miei compagni ho detto sì sto un po' soffrendo non so neanche io come sto poi nel finale stavo bene e niente sono riuscito ad entrare nell'azione giusta e quando sono arrivato lì nel finale ho detto vabbè speriamo in un bel podio che comunque un campionato italiano dà morale e invece è andata meglio sempre pessimista non so perché in questa gara di solito spero sempre di vincere invece non so l'italiano ero proprio partito pessimista invece è andata bene quindi prossime gare dovrò sempre allora continuo a essere pessimista magari prossimi risultati più delle cronache di sconti ci siamo comunque perfetti esatto stiamo creando già un qualcosa di speriamo positivo intorno a te che possa portare bene senti ma tu alla Bardiani il tuo contratto scade quest'anno sì sì scade a fine anno ok futuro perché immagino che questa maglia tricolore un po' di interesse lo porti ancora di più da parte di altre squadre ovviamente non ci puoi dire molto però sicuramente sì abbiamo parlato con delle belle squadre adesso è ancora tutto da definire non c'è niente di ufficiale però dai l'anno prossimo speriamo di continuare a crescere e magari di fare un altro gradino in avanti c'è qualcuno che ti ha avvicinato alla bike change facci solo sì o no con la testa ma non lo so vediamo che ti deve dire sì o no in che senso è una di quelle squadre è una di quelle che sì sicuramente è una tranquilla poi vedremo ok ok giustamente non non ci si sbilancia anche perché poi gli affari di mercato adesso da qui a fine stagione sarà il periodo caldo e può succedere può succedere di tutto esattamente comunque deciderai a fine stagione oppure anche a stagione in corso cosa scusa deciderai a fine stagione oppure anche prima ma adesso vediamo adesso penso a riprendere bene qui le gare ad agosto spero di fare un bel agosto e settembre e poi sicuramente decideremo ok quindi fine stagione non prima sì praticamente sì te la metto così in quale squadra World Tour ti piacerebbe? ma non insistere no ma non è per sapere dove va perché noi speriamo che vadano una grande squadra perché speriamo no ci crediamo capite quindi è quello è una cosa nostra io penso che nelle squadre World Tour è bello in tutte le squadre insomma sarebbe un sogno penso che tutti i bambini che iniziano a correre in bici insomma o nelle categorie successive sordienti allievi junior penso che se si chiede ognuno è il sogno di tutti arrivare in World Tour penso in qualsiasi World Tour e quindi è il sogno anche mio è il sogno che avevo da piccolo è ancora il sogno che ho tuttora e quindi spero di riuscire ad arrivare anche a questo sogno non so se Giovanni vi sconti vero quello che ha scritto ciao Pippo tutto può succedere potrebbe anche essere potrebbe essere Giovanni Giovanni se ci sei vieni in live un attimo dai che vieni a salutare Filippo senti l'hai seguito il tour ti è piaciuto? sì sì ho seguito soprattutto da metà in poi è stata veramente una bella battaglia e anche dei bei gesti ci sono stati quindi penso uno dei più bei tour che ho visto negli ultimi anni anche per insomma lo spettacolo penso anche la gente sì che non pratichi ciclismo ma che sia solo appassionata ci sia veramente divertita vedere questo tour Mulla tappati le orecchie no perché Filippo devi sapere che nella live di chiusura del tour de France insomma c'è chi è piaciuto e c'è chi è piaciuto meno però sicuramente poi il Mulla non si è emozionato era tutto qui non troppo via perché nel senso se mi fate la domanda il tour più bello di sempre era quello quindi ti dico no però non era male capito diciamo così dai infatti anche io il tour più bello degli ultimi anni penso sia stato almeno sia vista un po' di battaglia sì sì degli ultimi anni di sempre mi sembra un po' eccessivo capito era quello il punto sì anche perché bisognerebbe andare a rivedere un po' di battaglie passate come sono andate le cose nei tour di Contador e Schleck io ne ho trovate tanti guarda però va bene sì 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 però ora non poi però mi piacerebbe approfondire anche per rinfrescarmi la memoria invece il Giro d'Italia Filippo diciamo che a parte la tappa di Torino dove tra l'altro tu ti sei piazzato bene perché hai fatto top 15 il Giro diciamo a parte quella tappa e l'ascesa finale verso la marmolada con l'attacco di Indley agli appassionati non ha lasciato diciamo la verità un ricordo così importante indelebile indelebile ecco mettiamola così tu come l'hai vissuto a parte ovviamente faticarlo faticare fino alla fine arrivare in fondo che è sempre un bel traguardo ma è una cosa diversa cioè è stato non posso chiederti se ti sei divertito perché ma sicuramente se no non farai questo sport è stato è bellissimo insomma solo partecipare e poi sicuramente sì ci sono state forse delle battaglie uno contro uno come Artur però penso che comunque abbia vinto il più forte sia stato bello anche vedere certi attacchi certi certi corridori che insomma sono andati un po' in crisi sì poi sicuramente si può dire che certe tappe sono state magari un po' noiose 200 chilometri piatti anche cioè metto nei panni di chi guarda la tv ci è stata un po' noiosa però sì della solita fuga sai la differenza diciamo col tour che abbiamo notato noi è che al giro le tappe più complicate andava via la fuga e la si lasciava andare invece al tour non so se era per la distanza o per per altre cose ma alla fine quasi sempre se la sono giocata tra i big di classifica ma sì poi diciamo che al tour nelle tappe piatte c'era il vento quindi c'è poteva esserci vento quindi c'erano anche le squadre stavano un po' più attente poi c'è stata quella del pavè sì è stato un po' un po' diverso al giro ci sono state delle tappe 200 chilometri piatti e quindi sì anche le squadre le squadre più grosse non è che si mettono a fare chissà cosa anche perché sì non è che possono fare tanto insomma ma la tua salita leggevo un po' di domande prima che sono passate la tua salita preferita e qual è insomma se ce n'è una che ti magari anche dove ti alleni maggiormente è un corridore a cui si ispira è un corridore a cui si ispira sì ma salite preferite non so mi piacciono un po' tutte le salite dai poi quelle che mi alleno a casa sono sempre quelle in cui sì dove faccio dei lavori così più o meno sono sempre quelle poi salite che fatte in gara ma non saprei neanche io ne ho fatte tante anche se sono giovane però dai sono più o meno piaciute tutte poi certe volte non ti piace perché sei in difficoltà certe volte è più bella perché stai bene però dai più o meno le salite mi piacciono il corridore a cui mi ispiro diciamo che il mio idolo è sempre stato Marco Pantani anche se essendo del 99 non è che abbia visto le super imprese però mi sono sempre riguardato tutte le cose registrate l'ho avuto sempre qui come come idolo insomma senti ho ancora una domanda legata al giro la tappa dove hai sofferto di più? dove ho sofferto di più? io penso la tappa di Lavarone che arrivavo anche vicino a casa però il giorno prima ero andato in fuga a Lavarone ho voluto andare in fuga un'altra volta e lì ho un po' sofferto insomma quindi era già la terza settimana eri già insomma sì esatto quella col menador doveva poter essere sì sì esatto ragazzi domande o abbiamo domande dalla chat no io c'ho una fatidica domanda però la dobbiamo mettere la dobbiamo mettere bene allora Filippo dici un po' la tua idea sul perché abbiamo notato soprattutto ultimamente che i giovani italiani ci mettono magari 3-4 anni per arrivare al world tour e essere protagonisti invece come abbiamo detto prima Ioannes San Carlos Rodriguez magari sono dei casi però arrivano al world tour e magari fanno quello scatto in più già da subito tu ti sei fatto un'idea sono come come può essere dei casi a dire il vero non lo so neanche io è difficile da mettere giù sembra una domanda cattiva ma in realtà non lo è no no ma capisco solo che cioè lo vedo anch'io mi chiedo anch'io come faccia spero di arrivare anch'io così però a dire il vero non ne ho non so perché il ciclismo mondiale pochi anni fa diciamo l'Italia comandava il ciclismo mondiale adesso sono tutti gli altri stati che comandano e noi siamo un po' rimasti indietro però secondo me dai spero siano dei cicli e quindi adesso magari ci sono altri stati poi ritorneremo anche noi a essere protagonisti di primo livello insomma la mancanza di una squadra italiana sicuramente si fa sentire ma penso sicuramente sì tanto anche diciamo che avere una squadra magari di primo livello sarebbe un grande aiuto per tutti i giovani che iniziano a correre per tutti i giovani che ci sono nel ciclismo e avere un punto di riferimento in cui poter dire sì se vado forte vado lì e posso crescere e fare delle belle gare penso penso che per tutto il mondo ciclistico italiano farebbe farebbe bene ci chiedono se hai a portata di mano la maglia a persa a persa no no i body perché sono in ritiro e quindi ce l'ho a casa prossima volta ecco prossimo giro senti apro la parentesi mondiale perché parentesi mondiale hai parlato con il commissario tecnico c'è qualche possibilità di di vederti convocato ma immagino insomma anche dopo questa questa bella vittoria al tricolore il tuo nome sia considerato sì ci abbiamo parlato che ci abbiamo parlato però adesso vediamo un attimo anche la ripresa qui che io dopo l'italiano ho staccato quindi adesso è praticamente un mese che non corro adesso vediamo vediamo come fa la ripresa e poi bisogna andare forte insomma settembre così insomma da arrivare con una buona gamba perché se no se si arriva un po' scarichi non ne vale la pena è meglio lasciare posto a chi va di più insomma però ti ci vedi insomma in una squadra azzurra visto il percorso e le possibilità che ci sono di mettersi in mostra speriamo sarebbe un sogno anche quello insomma entrare nella squadra del mondiale però sì bisogna andarci consapevolezza di di arrivarci al top e di riuscire ad andare bene dare una mano alla squadra essere insomma una pedina importante anche perché la maglia azzurra va onorata e quindi bisogna arrivarci bene insomma Berta qual'era la domanda? se a proposito di giovani c'è qualcuno magari con cui ha corso che ci consiglia visto che noi magari sì l'avversario che ti ha impressionato di più non l'avversario in generale di quelli comunque della tua età diciamo abbastanza ma mondiale o italiano? no 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 in generale in generale in generale uno con cui ha corso che comunque ha più o meno la tua età e che comunque ti ha impressionato di più rispetto agli altri ma io ho visto sempre bene è stato sempre un duro avversario e poi sicuramente ce ne sono tanti altri perché anche Carlos Rodriguez Ayuso vanno tutti veramente forti quindi ce ne sono tanti e stanno crescendo tanti giovani forti e speriamo che anche in Italia riusciamo ad arrivare a massimi livelli così insomma solo per non metterti pressione sappi che il tuo è il primo nome che di solito facciamo quando parliamo di ciclismo italiano del futuro speranze per il futuro esatto quindi non vogliamo metterti pressione no perché vogliamo qualcuno che lotti nei grandi giri dai diciamo la verità si manca abbastanza comunque nella classica a parte quest'anno comunque ce la siamo sempre cavata fino ad ora soprattutto ci manca purtroppo Corbrelli ora ha avuto quel problema però fino all'anno scorso insomma abbiamo vinto abbastanza più che altro ci manca quello che quello è il discorso quella domanda lì dello svizzero è interessante dai faglielo un po' questa è una cosa sempre più fondamentale nel ciclismo di oggi di ieri e di domani dai sì 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 l'ho letta Filippo ti devo dire che era al telefono con Visconti che non ce la fa non ce la fa passare grazie però ti saluto l'aveva scritto 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 l'aveva apposta arriva 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 eccolo leggi ragazzi non riesco a connettermi posso dirvi anche qui in chat che state parlando con un ragazzo umile come pochi uno che farà parlare tanto di sé a suon di fatti e non di parole c'era anche il grande Pippo grazie grazie ti saluto comunque me l'ha detto ora per telefono arrivo quindi era lui era lui grazie ufficialmente vorrei rispondere la crono sì esatto sicuramente è un mio punto debole quindi penso che comunque si può migliorare tanto anche migliorando su materiali cioè studio di materiali posizione così penso si possa fare un bel passio avanti e quindi io spero di riuscire a migliorare sempre di più anche in questo punto debole è una disciplina che non cioè in cui non ti senti portato oppure che non ti piace proprio cioè ti piacerebbe o che non hai mai approfondito nel senso ma io penso che diciamo che mi piace però penso che bisogna starci dietro e studiarci su perché il livello tra i grandi che arrivano davanti nelle nelle crono penso che il divario sia più che altro anche quello e tutto lo studio che c'è dietro perché sì vanno forte però già solo andare nella galleria del vento ti dà tanto e quindi studiare sui materiali su posizione e tutto dà veramente un grande vantaggio poi è una questione anche un po' di peso nel senso di solito gli scalatori leggeri hanno più difficoltà no? sì sì sicuramente però allora ti volevo fare una domanda come è possibile che Vingegaard vada così forte a cronometro che cioè da un momento all'altro avrebbe battuto anche Van Aert probabilmente che è 60 kg ma hanno preparato il tour veramente al no al 100% al 300% e penso che non abbiano sbagliato nulla quest'anno la Jumbo e quindi sono riusciti a lavorare anche sulla cronometro e tutto ho visto quando è partito Vingegaard io premetto che la prima e la seconda tappa dove c'è la cronometro non l'ho guardata però ho visto la penultima tappa a cronometro e veramente rispetto all'anno scorso c'è una posizione aerodinamica veramente veramente bella quindi vuol dire che ci hanno studiato tanto anche su quella hanno lavorato molto e quindi sono riusciti a migliorare veramente tanto tra l'altro ci segnalavano che alla bike change sarebbe la squadra ideale per migliorare a cronometro perché loro lavorano molto su quell'aspetto vedi Superero vedi Simon e anche Simon che ora è un cronometro insomma un corretore da classi sta vincendo in Spagna sta dominando sempre prima di arrivare alla vuelta e poi vediamo cosa combinerà Filippo ci sono altre domande per ah sì di Evenepul che ci chiedevano se c'è mai c'è il corso contro che giudizio dai di lui dire il vero ho corso poche volte e beh però penso che sia un altro fenomeno che nel ciclismo è giovanissimo e ha già fatto vedere penso tanto e andrà sicuramente forte forse non vedo più da corse di un giorno più che da grandi giri però penso che possa vincere tutte le corse di un giorno che ci siano è veramente un fenomeno insomma proprio il CT Bennati diceva che tu hai tanti margini di miglioramento a parte il discorso cronometro in generale su altri aspetti su cosa devi migliorare secondo te ma penso che migliorare ogni giorno si migliora se si lavora bene tutto c'è vene pool collegato spero di di riuscire a migliorare in qualsiasi punto penso che ci sia da lavorare ancora sullo spunto veloce in salita non si è mai finito di lavorare perché bisogna sempre migliorare e comunque in tutti i campi bisogna continuare a lavorare perché diciamo i limiti non si sanno ancora quindi bisogna continuare a lavorare e spingersi sempre più in là insomma allora facciamo l'ultimo giro di domande poi c'è la domanda ultima fatidica c'era anche se hai accorso con Sepeda io rispondo io che c'hai accorso con Sepeda perché adriatica Sepeda è arrivato sesto mi sembra un minuto in più sì sì perché qui ci sono diversi se abbiamo gli idoli estimatori anche con Sosa fan club mi sembra eccessivo però forse tutto il contrario ci sono questi corridori che sono i nostri idoli perché li acquistiamo no sono stati acquistati nelle nostre squadre e puntualmente diciamo che non portano quello che i punti che dovrebbero portare e qui mi fermo per evitare di usare parole la domanda di Leopold qual è aspetta è questo questa è una cosa interessante perché c'è differenza tra italiani e gli altri no ma sì diciamo che non so perché solo in Italia sia vietata però sì forse gli stranieri hanno anche questo vantaggio però dai non ci facciamo caso e cerchiamo di allenarci al meglio speriamo di riuscire a battere lo stesso senti ho trovato una tua vecchia intervista dell'anno scorso in cui parlavi di Pogacar e tu dicevi che appunto l'avevi già battuto nelle corse juniores e che lo potevi fare ancora sì beh diciamo che adesso è stato scritto un po' così avevo detto spero di riuscire a batterlo ancora sì non era ancora il Pogacar di adesso era ancora diventato un fenomeno però è stato battuto sì che gara era ti ricordi che gara era ma diciamo che ne ho fatte tante insieme perché lui da juniores correva una squadra lì slovena che praticamente veniva a fare tutte le corse internazionali in Italia e quindi si trovavano sempre loro che correvano contro di noi ci sono stati tanti sloveni forti nelle categorie juniores così adesso sono un po' un po' spariti però Pogacar è diventato un fenomeno quindi speriamo non dibatterlo basterebbe anche arrivargli a ruolo esatto non sarebbe male bisogna vincere bisogna vincere abbiamo bisogno assoluto di ottimismo per il nostro ciclismo che sta attraversando non so credi anche tu che sia il periodo diciamo maggiormente negativo degli ultimi dieci anni per il ciclismo italiano negativo abbiamo vinto comunque gare sicuramente nelle classifiche dei grandi giri forse stiamo un po' mancando però penso che non si può sempre esserci speriamo adesso di rimediare che magari qualche giovane forte stia crescendo penso in Italia quindi speriamo che nei prossimi anni di arrivare lì a vedere un po' di italiani nella top 10 cosa cosa faccio questo che mi sembra molto interessante hai mai fatto pista cross o mountain bike e come giudichi l'essere un po' polivalenti sì ho fatto tutte tutte le ho fatte diciamo da giovanissimo si correva sia su mountain bike che su strada penso ancora adesso e quindi ho fatto più lì mountain bike poi quando sono passato esordiente allievo facevo la strada e il ciclocross e da juniors facevo invece strada e pista e sì diciamo che ho cercato insomma di fare un po' tutte le discipline e adesso negli ultimi anni sto facendo quasi sempre strada a parte un po' in inverno va beh ma girati per conto mio sì faccio un po' di mountain bike ciclocross e infatti ho detto che vorrei tornare a fare qualche gara di ciclocross in inverno come preparazione quindi vedremo se l'anno prossimo riesco adesso vedremo anche un po' con i programmi spero di riuscire a ritornare a divertirmi nel ciclocross perché è veramente un divertimento dicono che il monte serra sia l'ideale per gli allenamenti non so se lo conosci sì è in toscana se non sbaglio il monte monteserra monteserra e monteserra eh ragazzi si fa il giro di toscana giusto sì sì come noti dall'accento è abbastanza toscano quello che abbiamo parlato una bella salita poi dipende da che parte la fai perché giusto conosci anche i vari versanti ci sono leggende che dicono che l'ha detta solo lui in realtà che Berzin l'ha fatta in 12 minuti poi non si sa né che bezzante né l'ha fatta in 12 minuti non ne ho idea io l'ho fatta praticamente solo in gara e posso dire che in gara vabbè che tutte le salite in gara sono dure perché si fanno sempre a tutta quindi però è una bella salita sì bella salita io non so avete già chiesto tutto quindi io sto zitto in metto un disparto pensavo che ci avessi seguito no ho problemi con l'idraulico vabbè senti l'anno prossimo se farai il giro ti vedi per la classifica una tappa la maglia azzurra è un po' presto però un po' prestino è stata l'esperienza di quest'anno basterebbe una tappa e sarei già felice posso dire una cosa non so se l'avete già detto Filippo ti posso mettere pressione addosso ma può votare un altro allora sì mi immagino che l'avete già detto allora qui non si sa più dove mettere le mani Filippo cioè salvaci te salvaci te per le tre settimane provaci anche fra due anni va bene ha detto che parte con quelli da una settimana vabbè partiamo con quelli da una settimana va bene ci sta ci sta aiutaci te perché qui sennò il futuro è veramente buio cioè siamo preoccupati quindi sei l'unica speranza non è per mettere di pressione però che è l'unico è vero ce ne sono altri no siccome quest'anno noi siamo stati critici su il passaggio al professionismo perché ci sono dei ragazzi che correvano anche con te tra le altre cose sì sì mi immagino avete già detto che sono subito esplosi te ci ha messo un pochino però però quest'anno hai già qualcosa portato a casa no l'adriatica ionica sì sì no dai come ho detto all'inizio di stagione non ero per niente contento di come era andato però dai adesso ho preso anche morale e un po' di fiducia quindi speriamo sto cercando di lavorare non al 100% ma al 110% quindi spero di riuscire a trovare la gamba che ho finito la prima parte di stagione praticamente e riuscire a fare anche un ottimo finale di stagione poi l'anno prossimo vedremo di fare di far meglio il tuo contratto in Bardiani quando scade? già chi ne stanno andiamo avanti avete già detto sai dove andrai e l'interesse di certe squadre già affrontato noi saremo già arrivati alla domanda finale che è la più importante aspetta se te vai alla Jumbo guarda la porta c'è la porta era un corridore mediocre ma stavo arrestato cosa si dice? come ti permette? la porta era un corridore mediocre andata alla Jumbo è diventato un fenomeno quindi Filippo pensa in un classe dissociato nelle squadre che effettivamente quando ci sono altre squadre dove trapelano notizie di ambienti poco stabili mentre ci sono altre squadre dove si lavora bene e c'è una bella amalgama di atleti per esempio la DSM è una squadra che notoriamente se ne parla male cioè i giornali ne parlano male l'unico Bardet si trova bene poi tutti mali quindi non lo so poi insomma ti sceglierai quel che devi scegliere però io ti faccio l'inbocca al lupo a prescindere grazie ti rinnovo che per favore sempre della storia mettiamo pressione a ragazzi allora siamo alla domanda alla domanda clou mi sembra troppo un bravo ragazzo non si sbilancia noi ci proviamo ci proviamo allora lo sai vabbè ora è proprio degenerata la cosa di Michelangelo adesso è proprio degenerata insomma questa cosa l'abbiamo fatta prima cosa no sì 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 l'abbiamo fatta prima ora purtroppo Michelangelo sembra che non si è indagato poi è indagato non si è ancora ben capito questo scandalo insomma che è successo di traffico questo lasciamolo per però lui prima prima di questa cosa si era ritirato dal giro d'Italia dopo tre tappe poco e praticamente dopo che si è ritirato ha pubblicato subito le storie su Instagram capacevano a Filippo ma alla stana quindi lasciavolo bene no vabbè ha pubblicato le storie su Instagram che pubblicizzava la sua domo super lopez ovvero è praticamente questa casa nella nella come la foresta la foresta colombiana lui c'ha questa casa che tra l'altro c'era a Molano poco tempo fa ci vanno tutti i corridori colombiani vanno lì è una una casetta fatta tutta di legno io penso sia anche ecosostenibile tra virgolette che c'ha la jacuzzi dentro e lui e ora venne anche cappellini quindi è diventato infatti se ti va sul profilo Instagram di Michelangelo lopez c'è scritto che è un videomaker non è un ciclista paradossalmente è così quindi vabbè ha fatto quest'altro business e questo è il preambolo noi ci siamo immaginati una sera di ok prendiamo tre corridori che ci stanno antipatici e le mandiamo alla domo super lopez in Colombia biglietto di sola andata senza ritorno ora la domanda fondamentale è questa sfruttando la domo super lopez di Michelangelo chi manderesti con volo di sola andata in Colombia anche i corridori del passato qualcuno che magari non ti stava simpaticissimo per modo di correre il carattere qualcuno che perché è presente non so io con qualcuno ho litigato ho cercato sempre di risolvere insomma non avere troppi con chi te la sei legata al dito con chi te la sei legata al dito ci sarà anche uno diciamo uno straniero magari perché italiani poi se no è un casino no ma dire il vero per ora non è che abbia fatto tanti tanti litigi in gruppo da dire tu basta ti ho segnato mi stai antipatico per sempre ovvio che l'adrenalina ogni tanto anch'io ho detto qualche parola a qualcuno magari che faceva qualche entrata un po' un po' sì un po' pericolosa se se ero lì insomma che potevo giocarmi la gara o magari su una corsa a tappe che eri lì un po' davanti insomma ti rompeva un po' andare per terra quindi se uno ti entra un po' male ovvio che lo insulti però dopo dopo gara amici come prima e basta ti suggeriscono test fashion alla Ionica Adriatica Revis no ma mi sta simpatico non c'ho lì di cazzo per mandarlo là per dire non ce l'ho più come avversario così se lo toglie dai come rimane va bene anche però no ci mandiamo Ionisen Tobias ci ho litigato no è stato bello fare delle battaglie con lui e riuscire qualche volta a batterlo però sì c'è da dire mandarlo là solo per non averlo più come avversario va bene ti suggeriscono anche Guerreiro perché Guerreiro ce l'hanno parlato tutti male di Guerreiro non so hai notato qualche movimento particolare di Guerreiro in gruppo ma con lui avevo avuto che dire al giro eravamo in fuga e non voleva tirare ho detto ma ormai ormai manca poco all'arrivo andiamo insieme sì insomma gli ho un po' risposto male però dai poi ci siamo chiariti ha tanti amici in gruppo Guerreiro che non ho notato quindi è un po' strano ma mi sa che rota ci manderebbe Zana dopo Superlope provate gli hai soffiato la maglia la maglia tricolore comunque è bella maglia bella maglia c'hai una bella magliettina davvero perché a volte grazie era giusto che fattessi una maglia bella visibile come fece col Brelli l'anno scorso e poi vinse l'europeo è durata poco però bravi perché molto spesso noi siamo abituati magari Uae oppure altre squadre che mettono la bandierina sotto il logo e arrivederci invece è bello che la maglia italiana sia bella grossa e quindi si distingua bene la bandiera ora c'era un po' stadiatriba sul fatto della telecamera quando inquadrano la maglia del campione italiano perché dall'alto no dall'alto sembra la bandiera dell'Ungheria no in realtà eh sì perché sarebbe storta come disegnata sulla maglia però è difficile anche metterla dall'altra parte mi pare Viviani la fece verde bianca e rossa però verticale e non orizzontale mi sembrerà Viviani o se non sbaglio di Reval non mi ricordo sembra Viviani forse sì mi sembra non so ragazzi aiutatemi in chat era Viviani che c'era la maglia di campione italiano verticale non orizzontale vediamo un po' se qualcuno se lo ricordi mi sembra di sì perché poi Nizzolo ce l'aveva orizzontale sì perché lui è diventato campione europeo eh quindi Filippo ti tocca anche a te Nizzolo col Brelli a parte il percorso è abbastanza ridicolo è un po' un po' troppo piatto un po' se vinco una volata sarebbe no quello piano prima pensa ai grandi giri poi dopo alle volate vabbè quindi Ioan e Sene Guerreiro sono i due ci sta ci sta ci sono altre domande io dai sono arrivato ora quindi non so fate voi se non lo liberiamo lo liberiamo lo liberiamo è stato esatto è stato gentilissimo a venire dove sei adesso sono Olivigno bella vita bella vita io sto sudando da fermo sono in Toscana sto sudando da fermo ecco questo è interessante però qui ci sta bene per quello Baroncini ti ha pagato una scena per tutto il lavoro che ha fatto nel finale del Mondiale del 23? no dai ha pagato la serata del Mondiale che siamo andati fuori perché il volo era la mattina quindi abbiamo fatto un bel dritto champagne un po' di tutto insomma siamo andati fuori in centro ma la vita del corridore ti consente di bere alcolici cocktail e se sì qual è il tuo cocktail preferito? che domanda questa non si può beh ti consente diciamo che ogni tanto si può un po' sgarrare sicuramente se bisogna preparare qualcosa qualche bella gara meglio evitare l'alcol è meglio insomma anche sul mangiare restare attenti poi sicuramente a fine stagione bisogna recuperare tutta la festa che si è mancata però a fine stagione si cerca si cerca insomma di stare veramente attenti bevo tutto a fine stagione sopra il nuovo soprannome di Filippo la spugna credo non che sia alcoolizzato c'è un contratto da portare a casa dai no dai però a fine stagione si fa un po' di festa sicuramente no vabbè tipo ripetavo gin tonic mojito non so roba oh si non è che ne abbia uno preferito bevi tutto allora si vabbè poi non sono un grande bevitore perché dire il vero non è che mi piaccia bere tantissimo no perché poi se bevi poco cioè se non sei uno che beve spesso esatto bevo un bicchiere e io sono già poco e ciao sono economico sei un ragazzo da portarci da fuori stasera pago io tanto esatto quindi baroncini l'ha fatto spendere poco sì esatto l'ho fatto presto tanto l'ho dato poco serate a risparmio con Filippo Zara perfetto no vabbè poi si scherza Filippo mi raccomando in bocca al lupo Filippo grazie grazie vabbè hai iniziato questo 2022 non hai iniziato benissimo ma lo stai finendo bene quindi sei in rampa di lancio speriamo di lanciarlo speriamo grazie quali sono perché di solito io porto bene perché ho fatto vincere a Sanremo a Moric a Pasqualonne l'ho fatto tornare a vincere dopo tre anni qual è il tuo piano per le prossime gare l'avrai già detto ripetendo un attimo adesso farò Repubblica Ceca Sazca Tur poi Danimarca e poi dovrei fare una gara in Francia che come si chiama Plouet Plouet si Plouet e poi Tour of Britain e poi c'erano le gare in Italia qualche gara in Italia a settembre ottobre una vittoria al Tour of Britain sarebbe buono perché al Tour of Britain negli ultimi anni ci sono stati dei bei corridoroni la Philippe Eiter e Van Aert su tutti quindi io ti auguro una tappa o in Danimarca o al Tour of Britain perché in Danimarca in casa dei vichinghi fa sempre bene speriamo stanno diventando troppo troppo forti vincano tutto in Danimarca quindi in casa loro andare a vincere sarebbe buono però anche l'Inghilterra sarebbe buono come fa così un'intertour de France non ti sentiamo non ti sentiamo non ti sentiamo non ti sentiamo hai toccato vedai il microfono non hai toccato ora mi sentite ora si ora si no dicevo ma che Tour of Britain ci vuole un giro dell'Emilia o qualcosa del genere più fanno partì fanno partì no ma che piano ma che piano 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 Tour of Britain chi se ne frega Tour of Britain ci vuole giro dell'Emilia queste sono le vittorie che danno morale il giro dell'Emilia c'è poco non c'è no ci va l'ha già battuto poco quindi lo può battere sotto se già detto prima c'è problema l'anno scorso impennava il giro dell'Emilia poco quindi quest'anno mi sa sarà interessato mi sa vabbè Filippo ciao grazie Filippo buona serata ciao a tutti a presto grazie mille ciao saluta risconti che mi ha riscritto adesso ti saluta Giovanni sì saluta me lo grazie ciao grazie saluta me lo ciao grazie ciao Filippo eh mi sono perso un po' no c'è un po' di problemi in casa mi sono perso come è andata carico ragazzo sì molto Moulin ha risposto alle tue domande incalzanti comunque è timido non è sicuramente un Pasqualon un corridore un po' più no con un carattere un po' diverso però guarda io ti dico allora devo dire la mia no ma non su di lui eh in generale in generale sugli atleti i corridori gli uomini ecc no no che demoralizzato no aspetta eh non è quello è che io allora come persone le persone mi gabino le persone umili molto realiste anche insomma che non non eccessive no perché poi come persone ora eccessive come saga ne viene capito gente che proprio non lo so va fuori no dai dai limiti magari a volte anche troppo però secondo me un atleta non deve essere troppo umile così come opinione personale perché bisogna cioè quelli i vincenti non sono umili a parte vinghigardi che infatti ho dei dubbi su questa cosa eh no nel senso che è l'unico umile che vince non esulta capito un po' deprimente però va bene a parte che eh cioè vinghigardi no ha vinto il tour come dire sono contento è capitato cioè mi piacciono più le persone che cioè si sume come atleti eh non come persone no che non esagerano no però che dicono io voglio vincere voglio vincere qui voglio vincere là poi se perdi fai cioè no vedi ha fatto il personaggio mollare no il personaggio eh no capita che poi c'è la sgasa davanti alla terama lo sai lo sai che non mi gabiano questi vini ti ho detto è bene è puzzale è successo vedevo messaggi però anche ma cioè eh lo farò spiegare ma che è licenziale ti dico che secondo me come atleti non bisogna essere eccessivi di fare dichiarazioni eh fuori dalla norma no che vanno oltre ma nemmeno troppo umili no bisogna essere convinti di di vincere cioè bisogna voler vincere e dirlo io voglio vincere cioè quello è secondo me la differenza essere convinti di se stessi poi è una mia opinione eh ragazzi questa è bellissima questa è bellissima dovrebbero fare come Massa oggi è stato oggi Massa è stato ufficialmente ucciso sportivamente e umanamente dal suo direttore generale ditemi cosa ha detto che si ha detto semplicemente che non è buona a nulla ma davvero ha detto che a 27 anni non è non è un leader non è in grado di essere leader di una squadra e su questo secondo me è vero in parte anche perché ma io dico ma se Massa non è leader allora Lopez che c'è cos'è la Movistar l'anno scorso che si presentava con Massa loro hanno avuto Valverde e quindi ora pensano che non lo ritrovano più Valverde capito è inutile che un zoo faccia dichiarazione Massa in realtà c'è una storia che si Bonofritto è vero tutto il resto sì però cioè se ci pensate Massa ha fatto due top five tra tour e world cioè non è un fenomeno non è un vincente non è niente di tutto qui però è un buon corridore perché quando era alla quick step Lefebvre disse eh lo mando via perché cioè due volentot di soldi e disse vuole un ingaggio alto e quando mi dimostrerà se c'è se mi avesse dimostrato che è in grado di fare top 5 a Tour de France allora se ne potrebbe parlare ma siccome non mi ha fatto niente allora se ne potrebbe parlare e poi ne ha fatti due e poi ne ha fatti capito cioè e poi l'ha fatta questi top five cioè alla fine anche Lefebvre aveva sbagliato perché lui meglio non ce l'ha non ce l'ha avuto capito cioè ora puntano sui bene sono nel vuoto per ora no cioè disse che lui praticamente non era in grado di fare una top 5 in un grande giro e da quando se ne è andato da lì l'ha fatte l'ha fatte adesso c'è un grande problema ora chiaramente invece di fare il salto di qualità è calato ma quest'anno però sono le cadute le cadute chiaramente non è un vincente cioè non sarà mai uno che vince un grande giro questo a meno di miracoli è impossibile però è uno che non è nemmeno questo capito non è nemmeno questo qui non è nemmeno uno che deve essere umiliato non può essere un leader è quello lì ma se gli va bene è in forma fa fa quinto roba del genere no però non è nemmeno male cioè certo che sono dichiarazioni insomma che già mi sembra avendo visto anche poi la serie tv di netflix su netflix sulla movist è la terza stagione che mass è molto è molto psicologicamente molto fragile cioè non è sicuramente un corridore dalla grande personalità e quest'anno si è aggiunto anche questo problema grave della discesa enorme che non risolvi nel giro di di poche settimane o si ora va bene eh il blocco in discesa fermi un attimo mass che stanno al tour non è andato niente nemmeno in salita ah si cioè però che gli fanno la caduta del minato eh cioè alla tirreno era andato bene ed è caduto si quest'anno è un disastro è caduto ogni cosa però al tour è andato male anche in salita anche al prima di cadere cioè è andato malissimo cioè probabilmente tanto lui ha fatto lui ha fatto quando uno cade questa è una legge del ciclismo ragazzi quando uno cade al delfinato il tour non lo deve fare punto ma anche lo dice la storia anche i baschi anche i baschi hanno dato bene poi è caduto lo dice la storia recente Buchman è un corridore rovinato da una caduta al delfinato e non mi vengono mette ma ce ne sono altri quando uno cade al delfinato e non si riprende non finisce il delfinato non lo deve fare il tour salta e va alla vuetta tranquillamente questa è una legge del ciclismo contemporaneo io me la sento proprio mi sbilancio così che tutti quelli che sono caduti al delfinato poi hanno fallito ricordiamo i 120 milioni spesi per massi da qualcuno il blocco ti ha salvato posso bestemmiare ma non mi ha salvato dal pendere Lovitz eh ma perché poi è finito il blocco dopo il blocco ti si è scelta terribile ora lo vengono di San Sebastian allora San Sebastian San Sebastian dai abbiamo 19 minuti tra l'altro un po' di più però volevo chiedere poi in chat su Polonia se avete notizie di una copertura televisiva perché io a me sembra che il Polonia su Eurosport non ci sia non è previsto come l'anno scorso che dite ragazzi GCN magari però non è non ne sono certo infatti facciamo complimenti a Simon Yates che è tornato alla vittoria da Castiglia Leon no è fermo Yates sta vincendo praticamente tutte le corse che sta inutile guarda vai su Yates perché come praticamente mi ricorda molto la Sturie allora la dichiarazione di Yates e su questo mi voglio soffermare la Sturie arrivò a 17esimo vince due tappe infatti vince l'età allora vai avanti vai su vai su quinto alla volta Andalusia secondo la pariginizia per poco grazie a Bananarti se no poi ritirata il catalunio cioè quando è una war tour lui fa male poi invece Castiglia Leon due tappe vinte una tappa anche la pariginizia poi Giro d'Italia due tappe vinte poi arrivederci il profumo delle pro series che gli Prueba Villafranca e poi la generale a Castiglia Leon no una vittoria di tappa oggi e la generale e poi la generale quello che e la generale ha fatto due tappe con solo i primi tre cioè erano in tre a correre erano in tre no 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 c'era anche Nibali c'era gente c'era gente prima c'era prima c'era tutta l'ordine da rì c'era Chavez ma tra l'altro ha dato 53 secondi a George Bennett ascolta la dichiarazione è questa quando ha vinto quella lì Villafranca ha detto in un'intervista che è una corsa che aveva già vinto anni fa e la rivinta la lunghezza delle salite gli si addisce la lunghezza era tre chilometri quindi probabilmente sopra i tre chilometri questo non l'ho detto io cioè se la cercate la trovate probabilmente lui soffre le salite sopra i tre quattro chilometri a questo punto quindi la vuelta meglio del giro non sarà duro però tre chilometri insomma non c'è tantissima non ci sono tantissime ufficialità per la San Sebastiano non c'è niente non c'è praticamente Polonia peggio Polonia peggio Polonia peggio no ma Polonia c'è una startliste imbarazzante sì Carapazzi Gita se ragiono Carapazzi ma non è confermato ancora però e Bilbao va via comunque allora San Sebastiano eeeh boom infezione il quadro il quadro il grande quadro però aspetta il super sticker si vede da youtube che sticker ha messo come sono curioso vediamo un po' il super sticker del quadro ha messo un ippopotamo che fa vittoria aspetta lo metto facciolo vedere bene però aspetta potrebbe chiamare il quadro in live eh sì eh eh ma come fa a parlare se è un quadro eeeh grazie quadro tra l'altro potresti chiamare il quadro in live a darci una mano in queste startliste misere no effettivamente tra l'altro non aggiornato perché la Ineos vedo che c'è ancora Garen Thomas che invece non ci sarà sabato si prova a andare si prova a andare sul cycling fever vediamo un po' perché il cycling fever è più invita il quadro nel live è uguale sai Fede stavo guardando è uguale anche qui c'è ancora Garen Thomas c'è pochissime confermate quadro noi di fantasizing incrociaci in me punto com se vuoi venire in live hai 15 minuti hai 15 minuti allora se vuoi ti puoi trasferire con noi su twitch allora dov'è la sanzia porca puttana Castiglano c'è la squadra fantasizing è su twitch no no facciamo facciamo le gare che facciamo le gare che piacciono Simon Yates quelle al massimo la bongo bongo si fa stasera la bongo bongo allora questo è il percorso è il solito classico non hanno trovato sto murgilton torre e ora ce lo spiopperanno per 25 anni di fila quella salitella di quant'è 2 km 2 km al 10.1% si è dura anche quella di prima è dura anche la e se dura le altre sono più lunghe ma il difetto di questa corsa qui è sempre il solito che le salite dure sono troppo lontane dal traguardo e quindi si rimescono a me piaceva a me piaceva tanto il vecchio percorso con lo jesky bell che si ripeteva tipo 4-5 volte perché è una salita pedalabile però la ripeti è come il serra però lo ripeti 4-5 volte all'ultima mandata e poi ci metti il tontorra dopo quello si qui sono tutte salite dure alcune anche lunghe alcuna un po' anche lunga il problema è che il problema è che il lights è a 30 km dall'altra dall'ultimo muro su air lights si staccò e bene poi rientrò in discesa e partì nel falso piano prima di arrivare il problema è quello che c'è questo c'è questa grande distanza tra l'ultima salita e l'ultimo muro e quindi rientrano praticamente tutti e comunque si decide allora parliamo parliamo un po' di start list dai vediamo un po' allora qua se fosse confermato Poles è probabile l'ha vinto l'anno scorso quindi non è un brutto corridore da prendere e non sembra neanche in scarsa forma perché Arthur De France non è andato malissimo Poles Bettiol uguale è andato bene e secondo me assomiglia la salita di Tontorra assomiglia molto allo strappo di Mende dove Bettiol per poco non vinceva la tappa Bettiol ha detto che va lì per vincere quindi vedi la non umiltà va bene quindi secondo me Bettiol farà bene per chi ha qualche credito e qualche scambio in più Bettiol più che Poles lo metterei perché secondo me viene da un Tour de France dove esce in forma e è molto simile alla tappa di Mende ragazzi questa classica quindi attenzione attenzione a Bettiol poi vabbè Chavez Bo Guerreiro Bo Kudus il campione e Uran però secondo me Bettiol sempre se siano queste sì Chavez tutte le volte lo levano quindi ce lo fanno e poi lo levano la Ineos non è questa perché ho visto la squadra e non mi sembra questa no la Ineos c'è Rodriguez ma non c'è quella loro hanno messo su Twitter la squadra non mi sembra questa c'è Martinez c'è Gaganart c'è Rodriguez però qualcuno non mi sembra che aspetta così poi facciamo una roba fatta bene perché se no io dico solo Carlos Rodriguez eh però è un po' che non corre non so vabbè però Twitter vediamo un po' Dani Martinez beh la metto a schermo tra l'altro con la foto di Dani Martinez eh io lo vendo subito Brandon Rivera Carlos Rodriguez Pavel Simakov e Cameron Wolff eccola qui questo è la Ineos appunto non c'è secondo me io vedo bene Rodriguez e basta io vedo anche bene Martinez perché comunque non è uscito male da Tour de France ragazzi siamo onesti ha fatto un Tour de France di merda è vero però nella tappa con Vanart era rimasto solo lui e per stadia tra Vanarte bisogna averci un gran motore quindi secondo me Martinez potrebbe far bene però così è una gara di un giorno Martinez è una gara di un giorno magari è tutto da bene vabbè la Liège andava bene però sai ora ci arriviamo se c'è Sosa ci arriviamo comunque quindi la Ineos non è questa poi Quickstep confermata Stem le Venepo l'Onore e Nox Masnada sei di Cattaneo ragazzi tutti per Renko Venepo tutti per Renko Venepo no fermi fermi non è proprio così cosa attenzione c'è un'alternativa che è tutti sui Venepo e vince Onore perché Onore l'anno scorso è arrivato i primi 5 sì nella fuga e quindi potrebbe essere anche una tattica sì ma quest'anno c'è Pogaccio ha rincazzato ma incazzato ma comunque come alternativa è Venepo c'è un re sì secondo me qua secondo me qua c'è poca c'è poca fantasia ecco ma non lo so io non sono convinto qua se confermato dovrebbe essere anche un ballato in teoria Pogaccio ha detto che farà la San Sebastian e quindi Pogaccio io non capisco non capisco però va bene io ve l'avevo detto che ragazzi un'era si prova che facesse la vuelta infatti l'ha fatto subito a parte la vuelta questa scelta la San Sebastian perché vuoi vincere la San Sebastian e poi vabbè ora ho rimediato un tour hai perso il tour basta è inutile non è che se vinci la San Sebastian hai perso lo stesso cioè fatti un po' di vacanza rilassati la vuelta non è facile fare subito l'accoppiata tour vuelta ci vuole un paio di anni di rodaggio un conto è dice ho vinto il tour vado alla vuelta viene quel che viene un conto è aver perso il tour e avere l'obbligo di vincere la vuelta secondo me lui non è andato perché secondo me è un grande errore un grande errore perché la vuelta l'avrebbe vinta a mani basse la vuelta l'avrebbe vinta a mani basse ora invece punterà alle corsi di un giorno che tanti sono inutili che non cioè se vince non lo so il Bretagne Classic chi se ne frega il Gran Premio di Montreal punterà tutto a Lombardia su Lombardia e Lombardia non è così semplice indovinarlo e forse dovrebbe averlo capito che le gare di un giorno non sono come le corsi a tappe perché non lo sai mai e secondo me invece la vuelta l'avrebbe vinta proprio facile 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 anche a mezzo è una scelta che non capisco sinceramente io non la capisco anche perché se deve cominciare se deve se deve provare io bravo ve la posso spiegare ve la posso spiegare così che secondo me lui ha dato veramente tutto Arthur pur non vincendolo ha dato tutto e per me dice ok una gara di un giorno come la Sansebals me la posso giocare ma a restare 20 giorni in bici a diritto così a rifare la vuelta per me era forse un po' stanco forse non aveva voglia di starti 21 giorni a diritto a fare una gara forse aveva anche un pochino di paura di poterla perdere la vuelta perché alla vuelta non poterla sbagliare da chi? non lo so da chi però alla vuelta se te perdi te Pogaccia perché sei Pogaccia hai perso il tour te la vuelta devi vince punto se per caso non la vinci ma non la puoi perdere non la puoi perdere una caduta una foratura caduta e foratura ma quello se puntare il mondiale a Lombardia è ancora peggio è una secca non lo so secondo me è una decisione ponderata che ci può stare se vincerà o il mondiale o il Lombardia gli darò ragione se no secondo me ha fallito perché la vuelta l'avrebbe vinta facile secondo me avendo trovato un rivale e capendo che non è possibile fare una copiata giro tour non gliene frega niente di fare due giri in una stagione quindi ci penserà tra un po' ma perché una vuelta non conta nulla allora non vale nulla vincere la vuelta no però secondo me tour vuelta lo avrebbe fatto in proiezione di un anno fare giro tour visto che al giro comunque non ci andrà mai adesso perché si dovrà concentrare tutto per il tour alla fine fare la vuelta a questo punto non è così importante per testarsi sul doppio grande giro vedremo dai vedremo fai il caffè fai il caffè ecco ecco ristoranti direttamente in collegamento in diretta può darsi chi abbia ragione lui e vincerà il mondiale o lombardia però ragazzi non è che bisogna criticare a poca perché non è andata la vuelta è una scelta che per me ci può stare sia che vinceva tour sia che non l'avesse vinto non l'ha vinto ci sta che lui ragazzi l'accoppiata giro tour vuelta non riesce alla prima è difficilissimo che riesca alla prima ma non c'è nessuno di avversari dai Indley Indley Carapazzo ci sono l'Anda c'è a poca ce li può dare 5 minuti vabbè allora se lui perde da questa gente allora non ha capito mi dici quanti doppi giri ha fatto Pogaccia nella sua carriera fino ad oggi nel solito sarebbe il momento di provarne uno sarebbe il momento di provarne allora secondo me lo deve provare quando vincerà un tour de France magari il prossimo e l'anno scorso non c'è voluto andare perché ragazzi ha 20 anni c'è altri sette anni di carriera davanti diamo di tempo ma preparare una gara di un giorno non è come ripreparare 21 giorni di gara secondo me se avesse vinto il tour andava la vuelta ci andava perché ci andava con così con quel che avviene viene il primo doppio giro che faccio in un anno quindi ha paura della vuelta dai no ha paura che magari fare due giri di fila lui alla diciamo Froome era un fenomeno al tour de France quando fece la prima accoppiata prese una scoppola su una tappa prese un quarto d'ora perché a un certo punto non andava più perché era la prima volta che provava fai vedere allora se non hai paura lo fai ci sta se hai paura secondo me lui la proverà quando rincia il tour a quel punto lì fa la vuelta oppure oppure se se bingard è veramente più forte il prossimo anno dicevo vabbè allora cazzo ragazzi ho riperso un altro tour e mi butto sulla vuelta quest'anno per me è una scelta quasi giusta il fatto di non puntare alla vuelta perché ragazzi immaginatevi Pocaccia che prende una cotta su una salita e prende altri 5 minuti da da Indele o Carapazzo cioè lui finisce l'anno in crisi mistica in crisi mistica no ma perché un po' c'è è successo a Froome ha preso ha preso minuti da Quintana Froome Quintana Quintana che? Quintana è sempre lottato sì ho capito ma Quintana è uguale a Landa come corridore in salita no però come risultate solo Minus Valenza l'ha presa bene non è l'unico a pensare così è questo che due sconfitte due figurette sarebbe dure da decedire reputazione a puttare infatti ora a parte i termini però secondo me è questa secondo me quest'anno vuole vincere quelle due tre garette di un giorno se ce la fa la Sansevassa la Sansevassa nel Lombardia se lui vince ah garette nel Lombardia garete nel senso gare di un giorno perché lui arriva per vincere in Lombardia così agile secondo lui per me ha più possibilità di vincere in Lombardia che non la vuelta perché la vuelta ti ripeto 21 giorni di corso per un ragazzo di 23 anni che non ha mai fatto due grandi giri nel solito anno rischia che una tappa gli si spengi la batteria è probabile è successo a tutti quindi secondo me ha fatto bene il mio modesto parere ragazzi poi magari vedremo poi magari sbaglio però secondo me quest'anno il ragionamento che ha fatto ci sta perché ragazzi se Pogaccia conclude con Sansevassa nel Lombardia i corridori da corsi a tappe devono fare le corsi a tappe non devono fare le gare canadesi o GP Bretagne Bretagne classiche ma si scherza davvero dai ora se no se si parla di davvero di cipino si parla di cipino ma che me ne frega a me del Bretagne classiche del Quebec e Montreal ora va bene tutto ma Pogaccia deve fare il tour e la vuelta o il giro e la tour questo è interessante manca un gregario dal media per la vuelta io ragazzi occhio al media per la vuelta perché è carico io ve lo dico al media vince la vuelta io ve lo dico attenzione consegno al media vince la vuelta ragazzi oddio questa vuelta qui hanno detto di McNulty non so se avete letto l'articolo è capitano unico McNulty questa vuelta qui è vinci perdi la chiamano vai a vedere l'articolo silenzio 5 4 3 2 capitano unico McNulty rientra ma non lo dico io sì sì ragazzi non diciamo eresia non diciamo eresia ha un grande potenziale esatto ecco teniamolo lì nascosto non facciamo niente allora questa è la parliamo delle gare a fuori tra un minuto siamo su dai dai si ritardano mezz'oretta poi io ho scritto 23 circa quindi il circo potrebbe essere vai vai avanti che tanto sono squadre ridicole non lo so all'RN non lo so si ha ragione voi dite che Pogac voi avete in generale ma anche io si è pensato che Pogac fosse l'imbattibile di nuovo Merckx appena qualcuno ha detto nuovo Merckx ha preso subito la cotta imbarazzante non è quello non ha preso una cotta è arrivato secondo si alla Huerta arriva prima perché non c'è lui l'ha staccato Adam Yates sul Granol ascolti è arrivato secondo e alla Huerta arrivava prima perché chiaramente le avversari sono tutti esimi ha mai staccato Wingergarde in salita Pogac secondo al tour perché c'era Wingergarde non c'è Wingergarde alla Huerta vinci la Huerta è semplice non c'è nessun altro che è più forte di lui se fra 120 anni ti ricorderai chi è arrivato secondo ma non è quello il punto ti ricorderai chi l'ha vinto ti dico che lui se non ci fosse stato Wingergarde se Wingergarde fosse cascato avrebbe vinto il tour ma siccome alla Huerta non c'è lui e Roglic chissà in che stato è allora se Duren invece di fare una cagata sola ne faceva due avrebbe perso il giro d'Italia ma cosa c'entra io ti sto dicendo che l'unico che l'ha battuto negli ultimi anni in una corsa a tappa è lui ha fatto due a Vogac perché alla Huerta quando è l'ha battuto Roglic l'ha battuto quando ha fatto la Huerta e Roglic se non andava in crisi mistica perché Roglic l'ultima crono di due anni fa nel 2020 è andato piano è andato veramente piano perché se faceva uno standard di crono come fa Roglic fuogaccia c'era solo un ma Roma allora Wingergarde non ci sarà si è spento il microfono hai toccato il microfono Mullah hai toccato il microfono allora Roglic probabilmente ci sarà o non ci sarà ma comunque non è messo bene Wingergarde non ci sarà chi la vince io ascolta che dici te Mullah è probabile che se va alla Huerta la vince ma io ti dico guarda il primo Froom guarda potrebbe la vince la Mass non lo so mi viene in mente solo Froom ora guarda che Contador mi sembra quando provavo a fare l'accoppiata non me lo ricordo lo stesso che è Valverde non è un esempio non mi ricordo lo vedi un po' di tempo fa non è facile alla prima azzeccare un buon tour e una buona huerta o ne scazziamo o ne scazziamo guarda Massa ho capito ma non è facile fare bene bene in entrambe le gare un conto è se Massa che fa quarto e quinto allora va bene o comunque quinto e terzo una roba del genere dove non hai ambizione di vittoria finale un conto è dove vince per te vai lì e vince per te poi vai alla start di questa volta e vince per forza allora se non hai il carattere allora non sei un grande fenomeno che ti devo dire vedo sì per me ho perso il tour e ora vado alla huerta e vinto non Lombardia Montreal Quebec San Sebasti ma che di cosa ti sta parlando vai alla huerta e la vinci oppure vuol dire che anche te comunque ti sta ridimensionando come faceva Roglic fermi Roglic allora ha fatto 2019 20 20 allora 2019 era fece giro huerta che è molto più fattibile no perché c'è molta distanza da preparare meglio e lì va bene era diciamo il giro il tour dell'anno prima aveva già occhiato come fa quasi i podio al tour de France era il primo tour che faceva cercando di far anche a Silvia Generale di un certo tipo al giro d'Italia si presentò con lo vinco facile arrivò terzo dietro Nibali e Carapaz Carapaz preparò la huerta bene e la vinse il 2020 dopo la la batosta tra la planche dei perfis da Pogacar si presentò alla huerta con una huerta accorciata e per poco Carapaz non le soffia all'ultima età è mancato veramente poco così che perdesse la huerta e poi l'anno scorso essendo caduto al tour ha avuto praticamente 20 giorni di convalescenza e l'ha preparata bene non ha fatto il tour l'anno scorso ci ha fatto 5 tappi facciamo storia del ciclismo se sei un fenomeno hai perso il tour e poi la huerta e la vinci se no no vabbè comunque dai come lo vedi allora se no non si finisce se no non si finisce vai 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 farà una huerta così a spasso per cercare di ritrovare la gamba speriamo che di vederlo in forma nel 2023 ragazzi Pantani dopo essere stato tutto rotto è tornato alla grande dopo un anno speriamo di vedere anche Bernardo per me sta accelerando troppo tempo per prendere a più con calma però vediamo cosa farà sono contento per lui speriamo insomma possa anche vincere una tappettina magari sull'ultima settimana e che non faccia la fine e che non faccia la fine e che non faccia perché sarebbero svegliottissimi e che è ancora giovane dai qua Pogacar Almeida e anche Covi Almeida assolutamente no lo sapete benissimo Pogacar con Ayuso a supporto anche Covi ci metterei Covi come terza alternativa che ha fatto bene anche l'anno scorso però qua è la prima squadra ad Asciiro Vicente Bernardo è probabile allora qua è una squadra indecifrabile perché Moritz non esce bene da Artur però Moritz ha fatto bene l'anno scorso sì l'anno scorso però era uscito da Artur dove ha vinto tre tappe no quindi Moritz se avessi un euro non ce lo giocherei poi magari vince non mi piace questa squadra Samuel Sanchez forse gioca in casa ha fatto un buon perditante Samuel Sanchez che è il re di vivo come capitano è suscitato è tornato Luis Leon Sanchez Samuel Sanchez era forte ma Arashiro Banzai Luis Leon l'ho detto Samuel sì grande Samuel grande Samuel Sanchez qui io mi sento di dire Luis Leon Sanchez vi dico la verità perché qui non vedo nomi in forma Gino Madre anche lui ha corso indice Fabio è una squadra ora in questo momento la Barenna è un po' poco convincente e poi c'è sempre il post tour tutto insomma l'ambaradamme è successo la squadra dell'anno e poi c'è il numero 54 che tra l'altro notizia di pochi giorni fa e Bini Angirma che doveva fare il Polone in realtà se ne torna a casa perché è un mezzo infortunato insomma salta il Polone ecco Bini Angirma per chi l'aveva e lo teneva per il Polonia lo salta e era un Polonia adatto alle sue caratteristiche tra le altre cose poi ne parliamo ne parliamo dopo qua andiamo avanti sarebbe Rota ma Rota sarebbe Rota per un piazzamento però ora non l'ho visto è proprio brillantissimo è caduto in discesa giusto Rota si si era il giro di Vallonia comunque pensi che sia lui che l'ho un po' più accreditato qua Mollema lo mettiamo come possibile Mollema ormai va solo nei cronoprologhi o nelle cronometri anche se a San Sebastiano ha sempre fatto bene ha fatto un sacco di top ten non ci credo ragazzi ho visto meglio Schirmose guarda ho visto sto giro di Vallonia che mi sembrava avesse una buona gamba poi magari come sempre anch'io mi sento dire che Schirmose potrebbe essere il capitano che zitto zitto cioè chiaramente farà poco nulla però Schirmose male male non è bella la squadra da Jumbo la formazione C della Jumbo questa va saltata direttamente il capitano sembra lui il capitano sembra lui ragazzi andiamo avanti già che c'è Dumoulin andiamo avanti Lem Rides allora poi 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 Simon Yates io però non ho capito perché da un'altra parte mi risulta anche Matthews no Matthews è troppo dura come troppo dura non è solo un velocista lui Simon Yates potrebbe essere da comprare in vista web la prima domanda allora sarà da comprare e poi alla terza quarta tappa quando prenderà 20 minuti saremo lì a dire maremma cane un'altra volta ha ripreso 20 minuti io ci avevo creduto perché vinceva in Spagna ha vinto la San Sebastia l'ho ripreso si andrà così lo prenderò anch'io probabilmente lo metterò lì e poi mi strapperò i capelli però scusami siamo sicuri che faccia la vuelta si ha detto oggi che la fa dopo la la fa però avevi detto che un corridore nella lista nera non l'avresti preso eh lo so ma però poi sai com'è no perché sennò di cosa ti disperi poi Simon Yates potrebbe essere un acquisto interessante per due gare ricordiamoci ragazzi questa notizia importante che l'avvicendamento del calendario tra Polonia e San Sebastia fa sì che i cambi extra ce l'avrete praticamente il sabato sera quindi non sono utilizzabili né per il Polonia né per la San Sebastia e quindi bisogna fare una mia che ne ho nove già ora e quindi sono tranquillo bisogna diciamo sfruttarli per le gare successive gli scambi che arriveranno quindi attenzione attenzione quindi change saving ecco change saving la Lotto una squadra diciamo un po' non si vede non si vede aspetta scusa la Lotto si presenta con Krohn Krohn è l'unico nome Krohn Van Geelze che ha fatto un piazzamento l'anno scorso ma niente di che ci sta sempre il miracolo perché qualcuno miracolato ci sarà è la parola giusta miracolo la Stama dovrà rappresentarsi con una formazione interessante io non penso che Luzenko ma nemmeno Luzenko secondo me anche Nibali la fa io ho dei dubbi su questa formazione non mi convince proprio per niente secondo me è sbagliata però andiamo a vedere Pro Sacri Stasi no non l'hanno messa è uguale Blasov parla non si sa non si sa non si sa potrebbe essere ma non si sa la Stama si è uguale Matti French ancora con sta cosa di Yezi ci vorremmo ricascare di nuovo ovvio si è un è un'ossessione capito quindi uno dei nove cambi che ha lo sprecherà per Simon Yezi Kofidis tutti per Ionis Aguirre punto di domanda Guillem Martenne Guillem Martenne il filologo piuttosto si piazzamentino ci può anche essere ma va bene ragazzi Valverde dopo dopo la botta che ha preso che era mezzo morto ma veramente farà la San Sebastian no probabilmente no Valverde ha preso la botta poi dopo ha avuto dei casi covid in famiglia quindi praticamente lo sostituirà Mass stanno continuando a levagli le gare giorno per giorno quindi farà semplicemente solo la vuelta per chiudere basta secondo te da comprare per la vuelta Valverde no ok una risposta secca vabbè la G2R parepentre no no nessuno andare avanti nessuno Romain Bardet Romain Bardet ha tirato indietro per non fare una figuretta ha detto vabbè non ci vado neanche guarda Team DSM Romain Bardet se non ci sarà il troppo sole sì se non sarà troppo caldo Bardet se no Greganders che è ancora lì mina vagante e Kipken Farma andiamo avanti andiamo avanti questa è una squadra non credibile perché Woods ha il covid e Woods ha il costo la rotta e quindi non capisco ci sarà Simon Clark e Hugo Hull che sono abbastanza in forma infatti qui danno Bevin Clark Hull in Paineilands Woods non penso perché ha avuto il covid e aveva fino ad ora quindi non penso proprio che faccia la sansemane Simon Clark Simon Clark e Hugo Hull che ha la condizione che non ha no niente non ci sono cara in programma è Bardet il favorito nel Cile dell'Arte ma non andiamo su questi ule andiamo avanti no vabbè Godou Lavagnou Madoua Rudy Mollard ragazzi Rudy Mollard Clark Arturo ha preso il covid qualcuno dice me l'avevo dimenticato non lo so sì però ragazzi l'ha preso sì ma l'ha preso quanto mancava l'arte secondo me è già guarito però sai com'è no? eh lo so è vero è vero qui c'è Attila Walter che però storico c'è qui tanti buoni coditorini Godou per esempio volevo aprire sta parentesi ma poi vi lascio finire per esempio intanto queste ultime squadre di Ben Hermans non so se avete letto l'intervista di Ben Hermans che non è sicuramente quello che hanno fatto fuori dall'Inter hai ritoccato il microfono Mollard non andava malissimo Ben Hermans no? non è quello della Risale magari anche quelle professe sì qualche anche non World Tour le lottava no? e praticamente è fermo da marzo perché lui dice che c'ha la sindrome gli hanno diagnosticato proprio da long covid praticamente questo è il discorso che lui dice che non ha avuto il covid grave capito non è quello il punto è che lui proprio per quello non se ne è accorto non si è fatto i test e ha corso per per tutto il periodo del covid ha continuato a correre a correre a correre non si è mai fermato ha capito anche dopo e poi a un tratto è esploso e ora dice che da sei mesi cioè sei mesi dai quanti sono da 4-5 mesi non riesce più neanche a allenarsi sta rientrando ora quello che dicono che ha che ha Moscon sì cioè il fatto è che te comunque il covid dici ma se non hai nulla vai avanti cioè c'è quel rischio lì perché lui c'è il rischio che tu continui a correre facendo finta di nulla e non hai nulla e però poi dopo ti venga questa questa situazione capito che ti semplicemente ti calano le performance non è che muori oppure no però sappiamo che un professionista se perdi un 5% arrivederci anche un 10 capito magari è quello il discorso per questo si fermano subito tutti e vanno a casa comunque Cacarulal andiamo avanti Euskaltel pur essendo la squadra di casa non è più l'Euskaltel di Iba, Maio e Zubeldia la Bora la Bora confermata con Buchmann Fabbro Indle che è Demancora e Schacca è una bella squadra comunque Attila Valt è stato investito da un'auto come fa a fare la San Sebastian la fa in macchina la fa sopra la macchina in quel senso lì sarà dura questa è una bella squadra ragazzi la Bora è una bella squadra vediamo io per esempio Indle però che nome fai te di questi qui io posso dirlo poi mi insultere io Schacca aspetto di vedere chi è in forma come pedalano Buchmann Indle per vedere cosa faranno poi alla Vuelta soprattutto Indle voglio vedere che beh ma Indle non io guarda magari mi sbaglio che domani punterà dopo non ha più corso sabato punterà sulla San Sebastian a tutte io non lo so magari mi sbaglio ragazzi non mi sembra un obiettivo lo vedi un corridore se comunque sta lì davanti tira si fa vedere lo vedi se ha già una buona gamba capito mi sembra più da Kedder ma non Schacke sì infatti e questi chi ha fatto il tour Schacke e Korra giusto sì sono i due che dovrebbero avere una gamba un po' più allenata rispetto agli altri ma non è detto però Kedder ma attenzione perché Kedder ma è un malefico Kedder ma farà la Vuelta anche tra le altre cose quindi anche lì sarà un problema di capire chi cazzo farà il capitano della Bora no ma io sento la Bora c'ha tutti praticamente quella Vuelta sì Vla Vukman 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 è una squadra è una polveriera è pronta e scuola questi non si presentano con due capitani si presentano con 12 capitani con tutti tutti e ognuno per sé diciamo così chi 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 vincerebbe comunque totale l'ultima squadra interessante magari Cristian Rodríguez e la no Latour non lo dico più basta Cristian Latour eh sì Cristian Latour Cristian Rodríguez e Pier Rodríguez direi che riassumendo qui chi ha ovviamente che ha fatto poi la squadra per San Sebastian utilizzerà la maggior parte dei corridori che hanno fatto il tour l'unico nome che mi sento di consigliare proprio se dovete fare un cambio è quello di Evenepul chi non ce l'ha o quello degli Aids gli Aids gli Aids però se ci credete se lo volete mettere anche per la Welt se no per una gara esatto solo se si prende anche per la Welt l'Ighita ha tolto la Welt oggi infatti l'Ighita se no me ha la Welt ma perché scusa ma aspetta 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 che non è un grado se no me di fare una gara però sai che sta facendo cose mostruose sta levando gente come fece per il tour sta levando gente e mettendo gente ogni 3-4 secondi di media quindi non è assolutamente attendibile hanno messo Vlasov hanno levato Ighita Ighita l'hanno levato da tutto Vlasov l'hanno messo in tutto non ha senso dai non è più attendibile sulle Star 3 su Cycling Fever danno la bora con Ighita Ighita Indra e Keddemont non ci siamo ancora dai siamo in alto mare dai per la Welt bisogna aspettare io ho letto un'intervista mancano meno di 48 ore io ho letto un'intervista del manager questa è la Welt il manager della Welt il manager della Bora che diceva che ci sarebbe stato Ighita ci sarebbe stato Indra e ci sarebbe stato Keddemont e poi iniziano a mettere Vlasov levano Ighita e che ne so chi tira cioè ma se vuoi Vukwan Vukwan ok può fare Gregario Keddemont Indra Ighita Vlasov chi cazzo tira questi no lì vanno no lì succede come al giro che a chi succede qualcosa fa Gregario come Keddemont fanno per eliminazione giornaliene si e tutti a gufazza da uno contro l'altro si buttano in te gomitate sai proprio roba di giro peraltro cadute il tour femminile ragazzi tutti i giorni si ammazzano in queste cuoracce cascano tutte in massa tutti i giorni una roba allucinata la Cavalli ha preso una botta guarda Cavalli ha preso una botta e ha detto stavì l'hanno fatta sì ma quella non è neanche frenato cioè proprio che è una deficiente io non mi ricordo come si chiama quella rincoglionita no perché è una rincoglionita è una rincoglionita campionessa australiana sì ma dai è una rincoglionita treni spreni come si chiama nella telecamera da dietro si vede benissimo che questa deficiente si può dire che è una deficiente cosa fa io mi dissocio mi dissocio io mi dissocio dissociatevi tutti ragazzi questa lì se la becca bene carriera finita per la Cavalli se la becca bene ragazzi ma se mi viene detto cosa ha fatto sta bene questa vede che c'è la caduta invece di frenare ha si è messo a fatti no accelera smettere di pedalare ma continua andrà e cerca di far purtroppo ragazzi oggi avete visto che c'è stata un'arta caduta di 60 corridori come si dice come si dice corridoresse no di 60 vabbè vabbè 60 atlete atlete vabbè non lo so sai perché ci sono corridori corridrisce non lo so non mi sembra oggi hanno fatto un'altra caduta di massa qualcuno inizia a dire che probabilmente manca un po' ancora di per me comunque tornando alla caduta della massa Cavalli io a una sì ma sono tutte cadute di massa va bene ok ma se te stai entrando da dietro e a 20 metri 30 metri c'è una caduta te devi tirare freni punto poi ti metti a far slalom e ne becchi una questa qui fino al prossimo anno te non corri più punto perché dimostri che non sai correre in gruppo dimostri che te non hai idea di come sono la gara non è per dire le donne guarda il ciclino femminile è una scesa probabilmente essendo agli inizi comunque nel senso di cosa seria probabilmente manca qualcosa ancora ci vuole qualche anno di rodaggio perché fanno delle cadute veramente in 60 in 50 in 30 fanno delle cose ancora assurde quindi probabilmente manca un po' di esperienza ci vuole qualche anno probabilmente probabilmente la guida del mezzo ancora c'è uno step da colmare e anche la gestione del gruppo del sì sì sicuramente la guida del mezzo sono cose che possono capitare perché abbiamo visto alla Liegi anche i maschi però ancora stanno un po' cioè stanno un po' esagerando sono un po' frequenti ecco ci vedono anche cose assurde tipo quella lì capito ecco quella non sapete è vero è vero devono crescere non è che non è una critica cioè è una critica costruttiva nel senso che manca qualcosa ancora ma sai Davide anche agli uomini succede va bene ma te non vedi negli uomini che se c'è una caduta uno si prende il rischio di dire ok mi metto a fare slalom non freno perché devo rientrare in gruppo la gente cioè quando c'è una caduta nel ciclismo maschile ma in generale ma prescinde anche quello femminile è quella lì che ha completamente sbagliato e io se te sbagli e metti a rischio perché la cavalli il tour magari non lo vinceva ma arrivava al podio te hai hai fatto fuori una ciclista che si lottava alla maglia gialla hai rischiato veramente di fare finire la carriera perché se la prendi bene la tronchi la tronchi la tronchi ragazzi stai lì a 50 all'ora è come se ti piglia una macchina a 50 all'ora te rischi di fratturare è una follea totale vuol dire proprio comunque non sapere guidare per niente la bicicletta se ti dimostri ci vuole le patenti base come te guidi la macchina perché c'è la patente se te passi tre volte in un anno no due volte in 24 mesi non sbaglio forse motore rosso due volte ti levano la patente ecco a me io mi avrei la patente di guidare la bicicletta a te non sali più la bicicletta fino al prossimo anno a me che non mi interessa niente se questa lì può vincere due tours ducine il monumento e questa lì per me ci rivediamo nel 2023 arrivederci australiano non so nemmeno come si chiama non so nemmeno chi è ma non mi frega niente uno è fare una valentina e per me da qualifica che però ti ho detto purtroppo secondo me sono all'inizio ci vuole qualche anno dai però ragazzi le cadute che capitano per tutto va bene ma accaduta ma non quella lì ma anche come oggi è un continuo forse non riescono a tentare la pressione del Tour de France il gruppo non riescono a gestirla poi vedi cose allucinanti probabilmente manca qualcosa lo stanno dicendo loro stesse probabilmente cioè non è che io avrei mass tra le donne dovrebbe essere questo casca ogni 57 metri poi è bene ci sono cadute e cadute sì per l'amore del cielo però una roba del genere non si è mai vista nel ciclismo dai ragazzi una che fa strike così con una caduta lì via dai un conto dici te faccio una stronzata faccio casca una ok ho fatto una cazzata però è involontario un conto è c'è gente per terra tira sti cazzo di freni no si mette a fasla non mi piglia la cavalli in pieno squalifica un anno lontano dalle corse arrivederci vabbò allora andiamo al Polonia che qui è ancora peggio facciamo di bocca al lupo di fronte a guarigione a Marta Cavalli che era anche nostra ospite e a me dispiace perché poteva essere veramente una che si lottava il ritorno del Tour de France vinto no no poteva fare alta classifica perché quella Van Bloit non va quindi sì anche quella l'ammiraia che butta giù è la sua ammiraglia ma lì allora l'ammiraglia che butta giù corridori è successo anche nel ciclismo maschile non è non è una novità ma la propria che butta giù la sì ma non è che ne stanno succedendo un po' troppe dai diciamo così c'è tanto nevozismo avete visto la tappa nello sterrato dove le hanno fatte passare ho visto la tappa nello sterrato dove sono passate c'erano delle pietre sì un po' esagerata sembrava grave il più che ciclismo su strada ho svegliato i quanti decidi che però noi siamo tutti dai ragazzi si parla 10 minuti del Polonia e poi si va sul Twitch allora tour de Polonia start list ah beh allora andiamo molto velocemente eh ma andiamo a vedere andiamo a vedere prima facciamo così andiamo a vedere il percorso abbiamo sette tappe percorso abbastanza non ci sono salite allora velocisti la prima tappa 2 velocisti tappa 3 arrivettino in salita un chilometro e mezzo al 7.7% con qualche scollettino non male non male per unighita diciamo questa tappa tanto per fare un nome se c'era Girmais la potrebbe giocare tranquillamente molto simile all'arrivo della prima tappa in Ungheria o in Bulgaria come disse lasciamo perdere grandissimo poi si arriva a Sanyok che però non è il corridore quello che correva della CCC e sì anche Eiter è una tappa Eiter dalla Eiter quella di prima questa è una tappa interessante non capisco se questa qui non è 4.8 al 6% non capisco perché non è un GPM forse ma sai che in Polonia fanno un po' quel cazzo che gli fa questa è una tappa forse una delle più dure se corso una certa maniera 179 km la tappa con pochissima pianura qui si può il corridore da classiche sì sì ma sono tutte da classiche poi la tappa 5 è simile a quella di prima però salite un pochino più facili si è un circuito finale però anche qui poca pianura tanti up and down però salite veramente corte niente di che e poi c'è la Crono che farà sicuramente sfracelli perché sono 12 km di cui 10 in salita però in realtà la salita vera e propria poi alla fine la vedevo oggi anche su un altro sito sul 4-5 km a un 3-4% gli ultimi 2 e 2 al 6% però insomma però visto le salite che ci sono fa la differenza la Crono però farà la differenza la Crono anche se è corta però ci potrebbero esserci distacchi tra i 20-30 secondi dai guardiamo la staturista Fasulla e poi l'arrivo finale c'è un po' di tappa mossa iniziale poi sarà una guanta l'arrivo a Cracovia quindi start list quindi diciamo ci sono due tappe mosse insidiose anzi tre con la rivettina in salita tre tappe per velocisti e una Crono più o meno però una tappa dura come magari c'era negli anni scorsi con nessuno arrivo in salita vera niente ne fa tempo se volete comprare un paio d'occhiali allora Quickstep si presenta forse con Cavendish per la le tre volate no no questa è sicura è confermata ok Cavendish quelle volate e Vansever per una possibile classifica Vansever è un nome interessante anche perché a Crono non è proprio legnosissimo non è che quindi potrebbe essere anche un nome interessante poi Felix Galli io ragazzi non ci credo Moula è lui è il suo uomo qui non saprei Vendrame guarda Vendrame per qualche tappa sì Vendrame per qualche tappa no Vendrame 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 vince una tappa peccato la Crono per Vendrame peccato ipotesi Vendrame è un nome interessante per la Vuelta sì perché farà anche la Vuelta ok quindi per chi avesse dei dubbi no su chi potrebbe schierare la Vuelta siccome la Vuelta poi Moula si presenterà al percorso insomma poi vedrete la Vuelta presenta tanti arrivetti per Vendrame che se ci arriva con una bella gamba uno o due tappi potrebbe fare bene Astana andiamo avanti Battistella Battistella se non incappa in una delle sue 8000 sfighe che ha avuto questa stagione vediamo qualcosa può fare sì poi Pejo Bilbao si presenta con Cattiveria il capitano della Bahrain e Pejo Bilbao in teoria ma questa è sbagliata questa formazione Bilbao non c'è? sì c'è Bilbao ma gli altri sono diversi perché non c'è Tratt c'è Williams c'è Bao House c'è Zambanini italiani comunque non è non è proprio corretta però comunque Bilbao è Bao House Bilbao classifica Bao House sbrivolata sì aspetta che si guarda che la apro anche sul Stagging Fever così siamo sicuri di vedere che si parla allora start list allora su Stagging Fever mi dà questa mi dà Bilbao Bao House Bilbao Zambini Osler Mechuk è questa qua poi la Bona aspetta sono due italiani o no? no uno solo hai detto due italiani c'era non mi sembra hai sbagliato anche questa qua nessuno vabbè comunque chi era Bilbao Bilbao e Bao House dai Bilbao con quella crono potrebbe far bene anche se è peggiorata però vabbè poi Aleotti grande Aleotti non male secondo me come il nome per questo polone top ten Aleotti che ha corso il Sibio Tour e l'ha vinto è la sua corsa il Sibio Tour è la sua corsa al Giugno Italia non è andato benissimo ma era comunque chiaramente il regalo dicono Milan sì 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 infatti infatti Aleotti ha banduto il grande Vanhoek no no ma Aleotti potrebbe non essere male davvero per questo è chiaro che è una corsa di inizio luglio quindi comunque è già passato un mese tra poco però Aleotti non si presenta male vabbè ma i ragazzi non ci sono saliti poi c'è il polacco di casa il polacco di casa Cesare Benedetti Sam Bennett Ighita io penso più Ighita di Aleotti ovestamente penso più Ighita un po' più vediamo vediamo Jordi Meus che io ho sempre detto che Jordi Meus alla fine farà bene alla Vuelta e farà la Vuelta quindi attenzione a Jordi Meus il problema è che anche Sam Bennett credo faccia la Vuelta il problema è che alla Vuelta per ora a parte Ackerman non ci sono velocisti forse Merck ma scusa alla Vuelta voglio andare la Bora e qualcuno un Gregario lo porta no ma ci sono alla Vuelta la Vuelta è bella è quello che ci saranno sette tappe da velocisti ma tre velocisti quindi non arriverà neanche uno provate si mette a tirare in pianura Cofidis Cimolai per le tre volate potrebbe essere buono Consonni direi il nostro Consonni e Consonni deve vincere una tappa ragazzi che tanto convince si la vince facciamo un tifo per Consonni e penso che questa squadra qui sarà tutta per Consonni o Cimolai insomma Cimolai che era a fare una gara nel velotromo visto la storia di Instagram recentemente l'AF si presenta attenzione a Mark Padun che torna alle corsi un anno disastroso per Mark Padun l'AF sempre molto paga come squadra io dico attenzione a Maren Wanderbeck che secondo me dopo aver fatto un po' di rodaggio secondo me una la becca a sto giro vediamo attenzione anche a Simon Carr che miracolosamente è al via sia della San Sebastian che del giro di Polonia io bene tu non consiglio in vista niente però nemmeno io nemmeno io alla volta De Mar tutti per De Mar De Mar tutti per De Mar ci sarà è ufficiale De Mar va a Polonia ma ci sarà il treno eh non so chiediamo a Piazzano questo è comunque lui in teoria fino a ora sembra che ci sia però non dovrebbe fare la web io mi chiedo perché aspettano così tanto per mettere le squadre ma che problemi hanno che problemi mentali hanno la cosa sta peggiorando Moulin sta peggiorando il giorno sta peggiorando notevolmente De Mar altro acquisto interessante perché potrebbe fare anche la Bremer Classic che non è è comunque una gara di urto però non farà la web però 99 su 100 non farà la web quindi c'è da valutarlo potrebbe fare gli europei De Mar perché l'europeo è facile quindi De Mar potrebbe essere una pedina interessante ragazzi poi la Ineos si presenta con Carapaz Eiter forse perché questa gara questa formazione non è confermata il problema è questo è che qualcuno diceva su ho letto da qualche parte che Eiter faceva i giochi del Como che sono proprio eh no è qualcuno che sembrava ben informato magari no però comunque non è confermata hanno confermato l'altra formazione ma questa ancora no non è almeno alle nove ancora no per me è probabile che Carapaz faccia il Polonia perché mancano venti giorni alla vuelta secondo me Polonia come gara ci sta e secondo me fa bene attenzione a Magnus Sheffield il mio popello sì però Sheffield è più beh non credo Sheffield è tutto in realtà non ti stupirà però bella classifica no bella classifica ragazzi è Eiter o Carapaz perché non ci sono salite lunghe quindi Carapaz non credo che abbia chissà quale terreno penso più Eiter onestamente ma poi secondo me Kiatowski farà bene perché al giro di Polonia ha sempre fatto corsa di casa ci sta che sono tutti tutti per Kiatowski ha fatto terzo l'anno scorso Ah Kerman ci sta che fa il Polonia e la vuelta ma io non lo consiglierei a nessuno Eiter fa anche la vuelta attenzione non mi sento di consigliarlo a nessuno che ti devo dire Inter Marche si presenta Tom De Vrinte Page per le volate Kintenel un po' più difficili e basta Forse Tissene o Tissene sempre se questa combinazione sarà confermata De Vrinte per la classifica ancora no per le volate si tre per le volate ti ricordo che alla palestra di Rubin anzi quattro Tissene occhio a Quinten Hermans occhio a lui però però se me Tissene fa le volate o Boivon Poppe si per tutti è il fratello è vero sono come la bora sono come la bora dai Israel andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti per la Cronodoset ma è in salita Tai Jones per le volate segnatevelo Wurz e Smith pensate chi devo sentire alle Koji per le volate 203 circa Twitch Bauman per la classifica e Koji per le volate Koji che però a parte il Polonia non farà altre gare in World Tour per adesso quindi non è e Bauman che farà anche la vuelta però sai quello lì ma per me vediamo se ripete il miracolo ha già toccato l'Apice al Polonia potrebbe fare anche Benino al Pogno si no alla vuelta dicevo la Movistar la volete commentare o andiamo avanti però il Commonwealth diceva il Mullah che lo faceva al posto del Polonia no non è così il Commonwealth i giochi del Commonwealth non è un giorno di gara non mi risulta però lo dicevi al posto della Polonia o al posto della vuelta Polonia Max Kanter per le volate e Oscar Rodriguez secondo me farà qualcosina sulla classifica però per carità per carità Sobrero interessante per la Crono e poi attenzione perché se regge Sobrero la Crono siccome non è banale come Crono attenzione a Sobrero le volate le fa Groves chiaramente ragazzi non essendoci tappe difficilissime un buon Crono può andare nei 10 anche in generale sì 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 se Sobrero stesse stesse in gruppo sì allora Cade in Groves è interessante il problema è che ancora non è schedulato per niente e quindi perché non farà la vuelta non la farà il problema è questo bisogna capire ragazzi non vanno presi dai non scherziamo ti fanno 30 pochi punti non vale la pena con pochi cambi Stef Krass per la classifica e lui per le fughe guarda Maletsky e poi tutti ognuno per sé team Aresman Aresman per la classifica Ant per le volate o Sversford o Westford uno dei due faranno un po' per uno Westford però è uno di quelli che fa le volate quando non c'è nemmeno un cavalcavia quindi quando ci sarà un cavalcavia allora c'è Ant la Trek con Matteo Moschetti ma occhio anche a Eduard Teuns per le volate e occhio a Tiberi per la classifica come no e farà anche la vuelta Tiberi diamo l'esperanza ragazzi diamo l'esperanza c'è anche Aberasturi per le volate quindi Teuns Aberasturi e Moschetti una formazione devota per le volate sono formazioni che mi sembrano completamente a caso comunque va bene per la volata con Tiberi per la classifica tre che fanno la volata chiedono perché la lotto non porta De Lille perché a parte che è caduto a parte che è caduto e poi fa solo le gare in Belgio fa solo le gare in Belgio quelle per fare punti allora si presenta con Ackerman Formula e Molano direttamente dalla Domus Superlopez sì attenzione a questo nome Diagolissi che in Polonia vediamo va bene sì ma quest'anno non va bene neanche vabbè dai vediamo dai sono una sorta di Hunger Games dell'ex colonia schiavizzata dell'inglese grazie grazie quindi Ackerman per le volate Formolo e Ulissi per una pseudo classifica la Alpecin vediamo un po' qua la Alpecin si presenta con Jakub Maresco per le volate in discesa per le volate quelle pari 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 e Oldani per qualche fun Oldani poi la Cacarurral andiamo avanti Yuri Leitao attenzione Umberto Poli infatti diceva San Juan da acquistare subito ma c'è almeno nell'app sì c'è sì per forza Umberto Poli ragazzi acquistarlo tutti e poi per me è il favorito numero uno ma che favorito numero uno in salita e a cronometro non va per me sì per me lui attaccherà in un paio di tante ma vedi però favorito numero uno per me lui si piazza nei cinque sicuro sì ma però non è il favorito numero uno perché il percorso non vede se arrivi in salita e non vede e lui a crono non è proprio un drago diciamo così però magari guarda sarei attentissimo vincesse lui e occhio a lui anche per le volate anche se c'è Alvorsen però Tiller è un cagnaccio commento sulla Polonia Stanislav Agnolkowski ecco lo sapevo ce l'ha detto è tutto l'anno che rompe il cazzo Agnolkowski è tutto Agnolkowski una volata la farà anche lui è indicibile perché non si può di Agnolkowski perché è difficile l'ho imparato a memoria perché ha detto 700 volte non per cazzo ragazzi compriamo tutti Agnolkowski comunque questo giro di Polonia è veramente devastante devastante sia il percorso sia la start list sono veramente terrificanti tappe brutte ora capisco perché Eurosport non l'ha preso quindi non lo vedremo fortunatamente vedremo solo risultati su qualche sito su qualche sito secondo me nemmeno loro guarda erano lì a decidere non mi serve devo fare le news post up lo streaming più o meno sì no hanno visto il percorso e hanno detto no ragazzi fa cagare dai start list più percorso così no siete ancora in tv no ho cambiato idea anch'io bravo Roberto complimenti bravo ha fatto tanti punti bravo bravo allora problema che devo uscire dal calendario World Tour tra altre cose per far spazio alla Monteserra Challenge no ma ce n'è tante che devono uscire tipo Guanzi Tour che ha rotto le scatole perché è da due anni quelle gare australiane se siete chiusi se siete paesi chiusi per il covid non volete più nessuno siete fuori dal mondo e quindi basta non si fanno più corsi non si fa più niente in Australia in Cina prendete una decisione se volete rimanere chiusi lì fino a quando il covid sparirà cioè mai allora si faranno le corse da un'altra parte che vi devo dire cioè è possibile questi aspettano che cioè non fanno più eventi sportivi fino a quando il covid non è sparito cioè mai più quindi eliminiamoli Tour Down Under eliminiamo Guanzi Tour arrivederci e se ne mettono tre italiane siamo a posto ragazzi velocemente giro delle miglia World Tour per esempio ma quello assolutamente a parte come c'è anche la Bomba 2 Challenge Bomba 2 Challenge è già a livello di start history è già quasi una World Tour troppo le onde a Milano Torino con una gara bella sul Superga è già da World Tour ti dirò di più in Italia il Tour of the Alps l'Adriatica Ionica se fatte con un certo criterio potrebbe essere tranquillamente un Tour vabbè comunque anche il Giro di Germania se me ci sono altre classiche o giri da inserire comunque brevemente abbiamo avuto il sorpasso della DSM all'IF post Tour de France grazie a Bardet deduco quindi l'IF male 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 questa questa è la classifica di quest'anno la star conta poco sai conta in secondo luogo vuoi vedere quella di tre anni beh perché questa viene dopo cioè prima viene quella di tre anni poi dopo si fa gli scuri Fede fa ancora fatica a capire Lotto e Israel sono le ultime due la Movistar rischia parecchio la Movistar se li fa flop massa la vuelta rischia la vuelta sempre se ci sarà farà flop hanno 700 punti di vantaggio sulla Lotto che sono le ultime due la Israel e la Lotto la Israel ha fatto tanti punti su Tour de France quindi è rientrata in gioco guarda la Bike Exchange ora sta facendo un sacco di punti con Samoyez in queste corsette infatti sta rientrando in gioco la Cofidis è lì è lì la EF io fino all'EF poi la DSM dovrebbe essere abbastanza no l'EF no dai l'EF è troppo avanti ma c'è mille punti tra la Lotto e l'EF e poi qualche corridoretto ce l'ha dai che poi gli fa il colpaccio quindi queste però comunque dall'EF alla Israel rischiano tutti secondo me Movistar Bike Exchange l'Otto e l'EF questa è la classifica da queste quattro da queste quattro usciranno le due la Stana rimane sempre la peggiore di quest'anno nel 2022 con 2422 con Lucenco che si è classificato un top 10 qualche puntino ha fatto però sempre no la peggiore vabbè la 1X ha detto una cazzata vabbè no ha detto infatti la Stana è la peggiore e l'EF subito dietro la Stana con il 2007 poi c'è la DSM che non ha fatto benissimo è una classifica tosta la Weltrad probabilmente deciderà tutto di queste squadre qui perché la Movistar o forse le corzette in Belgio scherzaci questo è quanto ragazzi noi ci spostiamo tutti su Twitch con un leggero ritardo su Twitch ti hanno fatto una domanda però François prepara tutto se arriva su Twitch prepara boccettini più vatte i famosi 45 minuti di ritardo che questa volta ci sono stati quando decidete di dare la cena le date sono quasi certe il sabato 1 sabato 1 ragazzi il 99% è quella data lì ora domani devo andare a sentire da nonna Ilva Mula ci sei domani pomeriggio devo andare a Gigi a sentire se si può fare la cena lì non lo so non lo so vediamo devo andare a sentire se è affittabile il posto per 100-150 persone quindi domani vado a sentire nonna Ilva hai visto non lo so se hai visto c'entrano 30 persone devi prendere il piazzale lì fuori abusivo abusivo ovviamente perché dentro no non è fattibile ci sarà una morte sono fottuto che vuol dire Gesù Sputnik ci sei ci devi essere non c'è non c'è o piazzale o nulla se non lo facciamo arrivare col metaverso Sputnik a parte che i soldi li si danno a Naiva capace acquista di modo tutte e tre le ase accanto io ti dico questo o piazzale abusivo o niente ma c'è anche il terrazzo dietro il terrazzo dietro ma è poco ci vuole il piazzale abusivo tutto è preso no a 30 c'è più di coperti dai un centinaio scassi 60 vabbè ora domani faccio compi ti punta sul piazzale abusivo no ma che te ne frega si chiederanno permesso ma il primo ottobre non è così caldo ma è già fuori quella sera si che dici la vede ora col culo e sa piove di lupio universale no piazzale sarà presente e vediamo dai speriamo 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 ragazzi allora ci spostiamo tutti su Twitch io e il Berta andiamo su Twitch anche il mullano io no ascolta nuova schermata aspetta che non c'ho capito ah bellissima una schermata nuova allora vabbè ci sta una schermata nuova ragazzi ci sta una schermata nuova François e Kai anzi la faccio vedere in anteprima la schermata di Twitch non ce la fa vedere in anteprima mi sa no si è frizzato mi frizzo quando e dieci quando condivido da cellulare a computer mi frizzo un attimo ecco sì allora questa è la schermata nuova di Twitch dove c'è il buon vecchio François che è già a carico vedete la finestrella basta burlare che recensire la squadra no no stasera no troppo tardi quindi ragazzi dovrebbero essere le 20 non so vabbè no niente vabbè noi ci rivediamo domenica per il post San Sebastian e diciamo le prime due tappe del Pone che saranno abbastanza noiose direi quindi ci vediamo domenica ragazzi venite tutti su Twitch sul canale Fantastique tanto sapete dov'è e sapete come trovarci l'ora è in bullà ciao ci vediamo domenica ciao ciao alla prossima ciao arrivederci ciao a tutti